Salve a tutti e benvenuti in questa nuova lezione nella quale parleremo del periodo protodinastico tra il 2009 e il 2350 a.C. archeologia delle città-stato mesopotamiche. Affronteremo i seguenti argomenti, parleremo dell'introduzione storica, passeremo poi a discutere gli insediamenti e l'urbanistica, l'architettura pubblica, i costumi funerari, la statuaria, il rilievo e l'intarzio e parleremo infine dell'aglittica. Passiamo subito a introdurre storicamente il periodo. La prima fase del periodo che prendiamo in considerazione viene chiamata nella letteratura la fase di Jammet Nasr dal sito eponimo in Mesopotamia settentrionale e questa fase è datata tra il 3100 e il 2009 a.C. e segue gli sviluppi Tardo-Uruk dei quali abbiamo parlato nell'elezione precedente. La fase successiva è chiamata periodo protodinastico sulla base della cronologia elaborata dalla Scuola di Chicago e in particolare da Henry Frankfurt alla metà degli anni 1950 sulla base degli scavi e della sequenza messa in luce nella Valle del Dijala e in particolare nei siti di Telasmar, Telagrab e Cafagia. Il protodinastico si articola in tre sottofasi. Protodinastico 1, databile tra il 2009 e il 2007-50 a.C. il protodinastico 2, tra il 2007-50 e il 2006 a.C. e il protodinastico 3, a sua volta articolato in due sottofasi il protodinastico 3A e il protodinastico 3B compresi nell'arco cronologico che va tra il 2006 e il 2003-50 a.C. Questa fase, che copre i primi tre quarti del III millennio a.C., corrisponde in termini di cronologia archeologica e di periodizzazione alla fase cosiddetta del bronzo antico. Per quanto riguarda gli sviluppi storici di questo periodo, in un primo momento corrispondente alla fase di Gemma e Nasr tra il 3.100 e il 2009 assistiamo alla scomparsa delle cosiddette colonie Tardouruk. Se vi ricordate nella lezione precedente avevamo visto come nel corso della fase finale del IV millennio vengono fondate una serie di colonie lungo il corso dei fiumi Tigri e Ufrate, in particolare Giabella Ruda o Abubachebira lungo il corso delle Ufrate, che in questo momento vengono abbandonate. Si assiste nel corso del protodinastico iniziale tra il 2009 e il 2007-50 a un processo di regionalizzazione con la formazione di diverse città-stato, quindi parleremo di policentrismo, con diversi centri di ugual rango che iniziano a inurbarsi in questo periodo. Quindi la popolazione si sposta e si concentra soprattutto nei grandi centri che attirano chiaramente più, che danno più possibilità di lavoro e quindi attirano la popolazione, soprattutto dalle campagne. Nel periodo del protodinastico II, intorno al 2007-50, abbiamo le prime documentazioni di iscrizioni reali, quindi da questo momento in poi emerge per la prima volta la figura del re. Per la prima volta, diremmo, nella storia abbiamo documentato i palazzi più antichi in Mesopotamia meridionale. Nel corso del protodinastico IIIa questo processo va avanti e il tempio, che abbiamo visto essere la cellula amministrativa dello Stato nel IV millennio a.C., si fa man mano cellula dello Stato palatino. Quindi il tempio diventa un'istituzione parallela che si affianca a quella del palazzo. La conflittualità tra le città-stato nel corso del periodo protodinastico, come vedremo tra poco, aumenta sempre di più. E in questo periodo la maggior parte delle informazioni proviene non solo dalle iscrizioni sulle statue e sui sigilli, ma anche dagli archivi amministrativi. Gli archivi amministrativi più importanti di questo periodo sono stati rinvenuti nei siti di Fara e di Abu Salabih. Quindi nel corso del protodinastico, dal protodinastico I al protodinastico III, una serie di città-stato, come vedete qui nella mappa, tra i fiume Tigri e il fiume Eufrate, Mesopotamia centro-meridionale, emergono e sono tra loro equivalenti per potenziale e rango. Queste città-stato controllano un territorio cantonale che si estende su un raggio di 30-35 km e sono tutte quante guidate da una figura di un sovrano che prende una titolatura diversa a seconda delle città-stato. Il sovrano di Uruk si chiama En, che in sumerico si traduce con il termine di gran sacerdote, quindi con una connotazione piuttosto cultuale, così come l'enzi o fattore del dio è la titolatura che viene adottata nelle città di Lagash e di Umma, mentre nelle città settentrionali, soprattutto a Kish, il re si fa chiamare Lugal dal sumerico, lu vuol dire uomo e gal grande, quindi con una connotazione piuttosto militare. Ogni città-stato in questo periodo ha diversi templi e in particolare è presente un tempio principale dedicato alla cosiddetta divinità poliade, cioè la divinità cittadina più importante e relativa a ogni centro. Ad esempio, a Uruk in Anna è la divinità poliade, a Ghirsutello, Ninghirsu è il dio cittadino. In questo periodo abbiamo, come dicevamo prima, la menzione delle prime dinastie regali, le cosiddette bala in sumerico, ovvero dinastie legate ad una città e al suo dio poliade, il quale concede o ritira il suo avvallo in base alla condotta del re. Infatti, nella lista reale sumerica, che è un documento importantissimo che ci è giunto in versioni datate alle fasi iniziali del bronzo medio, alle dinastie di Isin e Larza, vengono riportate tutta una serie di centri importanti dove si avvicendano delle dinastie locali di re. Nella lista reale sumerica però sono presenti non solo dei nomi che sono comprovati da iscrizioni coeve, che quindi confermano la storicità di diversi re citati nella lista reale sumerica, come nel caso, qui vedete, della prima dinastia di Ur, con i sovrani Mesannepada e Annepada, che sono documentati da iscrizioni su statue reali. Ma abbiamo anche nomi leggendari, come Gilgamesh, che viene citato come primo re della dinastia, della prima dinastia di Uruk, che effettivamente è un personaggio leggendario e non è mai esistito nella realtà. Nel periodo del protodinastico, quindi, la regalità diventa aspetto preponderante della vita delle città stato-sumeriche e i re si fanno celebrare attraverso un complesso apparato molto celebrativo della regalità e attraverso l'erezione di monumenti dediche nei templi, quindi stelle di vittoria, come vedremo tra poco, statue e regali, ma anche attraverso decorazioni con pannelli, con scene di guerra, che vanno a abbellire le corti e le stanze interne dei loro palazzi. In questo periodo, vediamo, sono state documentate diverse tombe reali monumentali dove viene ostentata e si concentra la ricchezza. Alla fine del protodinastico, intorno alla fase del protodinastico 3b, quindi intorno al 2450-2350, emerge l'ideologia dell'impero universale. Quindi queste città-stato in conflitto continuo tra di loro vogliono prevalere l'una rispetto all'altra e emergono alcune figure come Lugalzaghesi di Uruk che cercano di conquistare tutte le altre città-stato e stendere il loro dominio sulla Mesopotamia meridionale. E non solo, perché ad esempio Lugalzaghesi di Uruk si freggerà del titolo di re dal mare inferiore, cioè dal gulfo persico-arabbico, fino al mare superiore, ovvero fino al Mediterraneo, in un territorio vastissimo. evidentemente per quanto riguarda Lugalzaghesi di Uruk è piuttosto propaganda, ma vedremo come nelle prossime elezioni i sovrani che succederanno a Lugalzaghesi effettivamente conquisteranno dei territori che possiamo chiamare quasi protoimperi, degli stati protoimperiali. Nel corso del protodinastico le istituzioni, i templi e i palazzi iniziano a tassare sempre di più le comunità di villaggio che devono cedere una quota del prodotto oppure devono fornire una corvée agricola lavorativa oppure una corvée militare. Questo processo che cosa comporta? nel corso del tempo un indebitamento sempre maggiore del contadiname che non riesce a fornire queste quote ingenti e queste tassazioni sempre più pesanti e nel corso del tempo è costretto a vendere i propri terreni, quindi alienare la proprietà privata e vedremo come nel corso soprattutto del protodinastico III e nel corso del protodinastico IIIb in particolare, diversi sovrani dovranno ricorrere ai cosiddetti editti di riforma con la formula tipica che il re ha restituito il figlio alla madre e la madre è stata restituita al figlio. In questo senso i re riuscivano a sdebitare, quindi a rimettere con questi ditti di riforma i debiti accumulati dal contadiname. Parallelamente le grandi istituzioni come i templi e i palazzi assegnano dei terreni a degli specialisti quindi in un primo momento li assegno in un sufrutto e nel corso del tempo invece questi terreni vengono privatizzati e vengono trasmessi in maniera ereditaria dagli specialisti quindi in questo senso avviene il processo opposto cioè di alienazione dei terreni templari e palatini che diventano proprietà privata a pannaggio di alcuni individui. Quindi se la situazione descritta in generale per il periodo protodinastico vi è chiara saprete rispondere a questa domanda ovvero su quali presupposti si fonda il potere regale nel periodo protodinastico? Se sapete rispondere a questa domanda possiamo passare immediatamente all'argomento successivo ovvero gli insediamenti e l'urbanistica. Le città-stato del protodinastico sono solitamente caratterizzate da un tessuto viario irregolare e come potete vedere nell'immagine in sovraimpressione il caso specifico di Cafagia Tutub nella valle della Dijala esemplifica il tessuto abitativo dei centri urbani di questo periodo. Infatti sono tutti quanti cinti da mura che però si adattano alla situazione preesistente come vedete in questo caso e riprendono il tessuto urbano irregolare. Non c'è una pianificazione netta e c'è una però a partire dal terzo millennio divisione netta invece tra l'area templare e l'area palatina. Avevamo visto nel quarto millennio come ad Uruk l'area delle Anne nel distretto delle Anne del livello 4 era caratterizzata dalla presenza di edifici polifunzionali ma soprattutto di templi. Invece nel terzo millennio a.C. le città sono caratterizzate da una divisione dei santuari cittadini quindi delle aree templari cultuali e da aree dedicate invece caratterizzate dalla presenza di palazzi. Quasi tutte le città anzi tutte le città sumeriche soprattutto quelle dell'area del sud della Mesopotamia sono caratterizzate dalla presenza di porti e di canali di corsi d'acqua che entrano direttamente dentro gli insediamenti. Infatti abbiamo non solo delle porte urbiche normali ma dei veri e propri water gate come vengono chiamati in letteratura quindi delle vie d'acqua che entrano all'interno del centro urbano e che permettono la comunicazione tra i diversi siti ma anche il trasporto dei materiali più pesanti. Le città sono caratterizzate come abbiamo detto precedentemente da assi viari irregolari e dalla presenza di un tessuto abitativo molto fitto con delle case di dimensioni irregolari variabili che si estendono su una superficie minima di 100 metri quadri. Questo è il caso di Abu Salabir la probabile antica Eresh che è caratterizzata dalle case a cortile centrale tipiche del periodo protodinastico con, come vedete nell'immagine un cortile centrale dove si svolgevano soprattutto le attività produttive molto spesso sono presenti dei tannur che sono questi forni per la cottura del pane e degli elementi che sono ancora oggi documentati nel sud della Mesopotamia tali e quali e le case poi si caratterizzano di tutta una serie di stanze e ambienti laterali dedicati a attività di immagazzinamento a cucine presenza di lavacri ma anche stanze di ricevimento solitamente poste vicine all'ingresso e stanze dove si svolgevano le attività amministrative anche le transazioni economiche che avvenivano non solo a livello pubblico ma anche a livello privato all'interno delle abitazioni e le strutture domestiche se tutto è chiaro rispetto all'organizzazione del tessuto urbano delle città del terzo millennio saprete rispondere alla seguente domanda ovvero che caratteristiche avevano le città mesopotamiche durante il periodo protodinastico? Passiamo subito all'argomento successivo ovvero l'architettura pubblica Per quanto riguarda gli edifici a carattere templare vediamo come in questo periodo il tempio si inserisce all'interno del tessuto urbano ed è rimane sempre come nella fase precedente del quarto millennio avanti Cristo una cellula economica nella quale si svolgono delle attività produttive e amministrative oltre che cultuali nel periodo protodinastico vediamo comparire una serie di strutture templari diversificate e molto più variegate rispetto a quelle documentate nel quarto millennio avanti Cristo e sono solitamente costituite da un cortile con funzioni utilitarie come vedete nei tre esempi qui in basso da una struttura templare vera e propria con un'antecella di accesso e una cella con il podio della divinità e una cella con asse a gomito ovvero con un ingresso di 90 gradi come nel caso della struttura templare in basso a sinistra oppure con un ingresso assiale come nel caso del tempio quadrangolare di Abu dove per raggiungere la cella viene compiuto un percorso assiale passando per l'anticella e successivamente per la cella quadrangolare in questo periodo compare una nuova struttura templare che è il tempio ovale del quale parleremo fra un momento una delle strutture caratteristiche di questo periodo è il cosiddetto tempio con corte interna antecella e cella un caso particolare rappresentato dal tempio di Sin rinvenuto a Kafaja Tutub nella valle del Diyala il tempio di Sin è stato scavato su dieci livelli architettonici databili dal periodo Jambenazr al protodinastico terzo e permette proprio di seguire l'evoluzione della struttura templare dal periodo Tardouruk quindi dalla fine del IV millennio a.C. fino al tardo protodinastico 3b come vedete nell'immagine vi ho messo alcuni esempi delle diverse fasi costruttive del tempio di Sin in alto a destra abbiamo la fase più antica del periodo Tardouruk con vedete la cella e l'antecella divisa in una pianta tripartita caratteristica se vi ricordate bene dei tempi del IV millennio a.C. mentre nelle fasi successive siamo qui nel protodinastico secondo compare un accesso turrito all'area templare nell'angolo nord-orientale una corte interna fornita di altari e di bacini lustrali e una vera e propria area cultuale con antecella e una cella di accesso con il podio della divinità sul lato breve settentrionale nelle fasi finali del protodinastico come vedete la struttura templare di Sin si ingrandisce sempre di più e viene spostato l'ingresso che nella fase finale del protodinastico 3b non è più sul lato nord-orientale ma su quello settentrionale e vengono aggiunte tutta una serie di celle per il culto di più divinità probabilmente di sinne della sua paredra e di altre divinità minori un altro caso è questo qui del tempio ovale scavato sempre nel sito di Cafaja Tutub questa tipologia templare come vedete è caratterizzata dalla presenza di due recinti di forma ovale concentrici con vedete benissimo come visibile nella ricostruzione tridimensionale sono presenti due corti esterne in successione nelle quali si svolgevano diverse attività di culto ma anche attività lavorative abbiamo qui delle immagini dei particolari del bacino lustrale che sono scavato all'interno della corte interna del tempio ovale e un pozzo per la raccolta delle acque piovane il tempio vero e proprio sorgeva nel recinto più interno su una piattaforma sopraelevata che era accessibile attraverso una rampa disassata il tempio che non si è conservato si ergeva sulla sommità della piattaforma all'interno dell'edificio del tempio ovale di Cafaja erano presenti tutta una serie di altri ambienti con funzione di magazzini ma anche degli ambienti residenziali probabilmente questo in alto nel settore settentrionale del recinto esterno era la casa del sacerdote il sanga in lingua sumerica molti di questi templi ovali come nel caso che vedete qui riportato nella slide di Tel Obeyed presentavano delle ricche decorazioni della facciata in questo caso il tempio ovale su terrazza era decorato era dedicato alla Dea Nincursag ed era decorato con questo cosiddetto freggio del latte quindi con delle scene di mungitura e con dei rilievi sbalzati a tutto tondo con la rappresentazione dell'aquila Anzu che soggioga due cervi oltre alle strutture templari in questo periodo come abbiamo detto compaiono le prime strutture palatine ne sono documentate diverse in siti della Mesopotamia centrale e meridionale come a Jemmet Nasr come a Eridu o anche a Mari lungo le Ofrate vi riporto qui un caso particolare di struttura palatina che è quella scavata a Kish datata al periodo protodinastico 3A il palazzo di Kish come potete vedere nella slide è caratterizzato da blocchi separati da corridoi e vie e da un ingresso monumentale che è questo qui fiancheggiato da torri con una scalinata di accesso alla struttura palatina caratterizzato poi da vedete le stelle in rosso sono i punti dove sono stati trovati gli intarsi che raffigurano pannelli con scene di guerra che dovevano decorare le sale interne del palazzo e celebrare la regalità il palazzo è costituito quindi non solo ambienti di rappresentanza e di ricevimento ma anche da una successione di corti aperte di corti colonnate come vedete nel caso del blocco meridionale del palazzo ma anche di ambienti dedicati all'immagazzinamento e alla processazione di cibi di alimenti ma anche alla lavorazione di intarsi di oro di gioielli quindi tutta una serie di attività legate alla produzione quindi se vi è tutto chiaro rispetto a questo argomento mi saprete rispondere alla seguente domanda ovvero quali sono le caratteristiche delle strutture templari del protodinastico passiamo quindi all'argomento successivo ovvero ai costumi funerari nel corso del protodinastico vediamo come emergono tutta una serie di sepolture intra ed extra menia cioè all'interno e all'esterno dei centri abitati che si affiancano alle sepolture sub-pavimentali ovvero quelle scavate al di sotto delle case di abitazione che erano documentate già nel periodo precedente cioè nel quarto millennio avanti Cristo nel periodo del protodinastico a fianco all'emergere del ruolo del re e quindi della figura regale vediamo anche i primi esempi di tombe cosiddette reali che sono delle tombe costruite a camera nelle quali si svolgevano dei rituali di sepoltura molto complessi come vedremo tra poco nonché appunto dei riti e dei banchetti che si svolge il cosiddetto chispum mensumerico che sono dei rituali di commemorazione dei morti che si devono svolgere in particolari occasioni e dei quali abbiamo menzione non solo dai ritrovamenti archeologici ma anche dalle fonti testuali coeve un esempio impressionante è costituito dal cosiddetto cimitero reale scavato da Wolley a Dur tra il 1926 e il 1927 Wolley ha documentato un totale di 16 tombe chiamate reali ma effettivamente probabilmente non di veri e propri re ma di personaggi di alto rango che hanno restituito dei corredi estremamente ricchi e sono state una delle scoperte più sensazionali di quegli anni vedete qui una delle tombe attribuita alla cosiddetta Dama Puabi la PG-800 che è una tomba costituita da un corridoio un dromos di accesso e una camera trapezoidale di grandi dimensioni tutta quanta completamente riempita di di un corredo ricchissimo e di una serie di sepolture primarie non solo pertinenti alla Dama Puabi che era seppellita in questa stanza ma a una serie di persone del corteggio che erano state uccise ritualmente insieme alla Dama Puabi al momento della sepoltura allora vediamo qui nel corridoio di accesso sono stati ritrovati cinque soldati armati di lancia entrando e svoltando immediatamente a sinistra sono state rinvenute i corpi di dieci dame tutte quante riccamente ornate con gioielli d'oro lapislazuli corgnola e materiali preziosissimi che erano in prossimità di un'arpa una delle donne addirittura aveva le mani sullo strumento musicale altri corpi sono stati rinvenuti sempre all'interno della tomba intorno a questa che sarebbe la slitta il carro della regina della Dama Puabi tra inato da due bovini e altri personaggi sono stati rinvenuti intorno a questa cassa linea che doveva è stata ritrovata vuota ma che probabilmente doveva contenere dei tessuti ricchissimi altre tombe come la PG 789 la cosiddetta tomba di Abargi o la PG 755 la tomba di Mescalamdu hanno restituito degli oggetti preziosissimi come la famosissima Dama o il Beckhamon diversi esemplari di strumenti musicali di arpe di lire di tamburi e questo bellissimo casco d'oro proveniente dalla tomba di Mescalamdu ora se tutto vi è chiaro mi saprete dire quali sono le caratteristiche delle cosiddette tombe reali passiamo all'argomento successivo ovvero alla statuaria in rilievo e in tarsio la maggior parte delle statue rinvenute nel periodo protodinastico provengono da strutture templari ad esempio qui avete due statue di oranti ritrovate nel tempio di Sin del quale parlavamo precedentemente a Cafaja e una coppia di oranti dal tempio di Nippur di Inanna come potete vedere nell'immagine queste statue che venivano dedicate sia da privati ma anche da re che erano posti all'interno delle strutture templari su delle banchine ed erano dedicate come ex voto alle differenti divinità nel corso del protodinastico abbiamo un'evoluzione progressiva del tipo di rappresentazione della figura umana questo lotto proviene dal tempio di Abu ed è abbastanza antico perché è datato tra il periodo protodinastico primo e il protodinastico secondo infatti vedete i corpi molto massicci le gambe che sono sorrette da un piedistallo e gli occhi enormi tutti quanti realizzati con materiali diversi in particolare lapislazzoli ma anche bitume nel corso del protodinastico abbiamo un'evoluzione del tipo di raffigurazione e vedete benissimo come questa statua datata al periodo protodinastico 3b quindi qualche secolo più tardi proveniente da Mari dal tempio di Ishter abbia una raffigurazione molto più naturale degli elementi in particolare della gonna il cosiddetto kaunakes in sumerico che è resa con queste balze queste ciocche di lana in maniera molto naturalistica quasi a seguire il movimento e la posizione seduta dell'intendente Big Hill allo stesso modo sempre da Mari provengono una serie di statue che raffigurano personaggi diversificati ad esempio la statua di Urnansh rappresenta questo cantore ed è stata ritrovata nel tempio di Nini Zaza sempre dal tempio di Nini Zaza proviene questa statua femminile che vedete rappresenta un personaggio di alto rango e ci permette anche di capire come erano abbigliate le donne dell'epoca questa donna da Mari porta questo copricapo esagerato questo polos cappello con un mantello posto sul capo e la gonna la veste sempre realizzata con queste balze di lana nel corso del prato dinastico sono documentate tutta una serie di statue regali e vediamo come le statue più antiche come quella di Lugaldalu di Adab rappresenta un sovrano in un atteggiamento di orante con le mani giunte sul petto e la caratteristica gonna a balze di lana legata in vita e la parte superiore del corpo scoperta il capo è glabro mentre in un periodo successivo verso il pro dinastico 3b la rappresentazione dei sovrani assume dei connotati sempre più militari il sovrano questo è Ischimari uno degli ultimi re della città di Mari lungo le Ufrate si fa rappresentare con questa veste che copre solo una delle spalle sempre di lana con queste ciocche balze di lana la barba è lunga e i capelli sono raccolti dietro la nuca in uno chignon sulla spalla come vedete qui nel dettaglio della statua di Ischimari è riportata l'iscrizione in caratteri sumerici in caratteri uniformi altre altre rappresentazioni artistiche di questo periodo sono le cosiddette placchette in calcare questa è una placchetta che viene da Tello l'antica Ghirzu datata al protodinastico 3A queste placchette si ritrovano solitamente negli edifici templari e recano questo foro come vedete nell'immagine al centro che probabilmente serviva per posizionare un chiodo e per appendere la placchetta al muro solitamente in queste placchette vengono raffigurate delle scene di banchetto sempre con la figura del re che è rappresentata come canoni di quarto millennio di dimensioni maggiori rispetto agli altri personaggi e in alcuni casi viene rappresentato il re con un cesto in testa nell'atto di costruire quindi il sovrano costruttore il sovrano che restaura i templi per la divinità poliade altri monumenti di quest'epoca che diventano sempre più attestati nel corso del protodinastico sono le cosiddette stele celebrative che raccontano solitamente degli episodi di guerra e delle vittorie da parte di alcuni sovrani in questo caso nella cosiddetta stele degli avvoltoi proveniente da Ghirzo e datata alla fine del protodinastico ovvero il protodinastico 3b tra 2004 e 2003 e 50 il sovrano di Lagash e Anatum della prima dinastia racconta la sua vittoria contro la città rivale Umma questa stele era composta da diversi era una stele di grandi dimensioni di un metro e ottanta di altezza per circa un metro e trenta di larghezza ed è stata ricomposta da diversi frammenti ritrovati all'interno del tempio di Ghirzo oggi è esposta al Louvre dove la potete ammirare e si compone di due facce il cosiddetto lato mitologico e il lato storico nel lato mitologico viene rappresentato il dio Ninghirzo che tiene in mano una rete che contiene tutti quanti i nemici di Lagash quindi nemici sconfitti del re e Annatum e con la mazza colpisce la testa probabilmente del re di Umma nel lato storico viene raccontata la marcia del re e Annatum contro la città rivale di Umma l'esercito che avanza con il re in testa sul carro il cumulo dei cadaveri dei nemici sconfitti che vengono divorati dagli avvoltoi ecco perché questa statua è stata chiamata la stelle degli avvoltoi per la presenza di questo dettaglio nei registri inferiori la stelle è conservata solo parzialmente ma probabilmente il re e Annatum festeggia la vittoria sulla rivale Umma che cosa si contendevano le città di Lagash e Umma si contendevano il Gu Edena che è un canale che doveva trovarsi probabilmente a metà strada tra le due città come vedete Lagash e Umma distano tra loro poco circa una cinquantina di chilometri nell'iscrizione con i formi e vi recito un pezzo viene detto il governatore di Umma dove recluta i suoi uomini con altri uomini egli è capace di sfruttare il Guedena la pianura amata del dio Ningirzu possa egli Ningirzu abbatterlo ed ecco qui la maledizione da parte del sovrano di Lagash e Annatum che alla fine sconfigge come sappiamo dall'iscrizione e dalla narrazione sulla stele il suo rivale re di Umma altri rilievi altre decorazioni delle quali parlavamo poc'anzi sono i cosiddetti pannelli interziati che rappresentano sempre scene di guerra di belligeranze che dovevano decorare i palazzi reali qui abbiamo un dettaglio del pannello interziato proveniente dal palazzo A di Kish invece qui accanto abbiamo alcuni dettagli dei pannelli interziati provenienti dal palazzo presargonico di Mari questi pannelli compositi come questo è famosissimo un pezzo che tutti quanti conoscerete è lo standard di Ur ritrovato nelle tombe reali in particolare nell'APG 779 ed oggi è conservato presso il British Museum rappresenta un pannello interziato che racconta su due lati sul cosiddetto lato della guerra e poi sul lato della pace un evento bellico probabilmente una vittoria compiuta dal sovrano di Ur rappresentato di maggiori dimensioni come vedete nel registro superiore dove alla fine dell'impresa militare banchetta con musici cantanti e con tutti i dignitari al seguito che tengono in mano una coppa con un bicchiere dal quale Libano quindi se questa parte della lezione vi è chiara mi saprete dire quali sono le tipologie di statue e di stelle documentate nel periodo protodinastico passiamo ora all'ultimo argomento ovvero alla glittica un'innovazione fondamentale del periodo protodinastico è l'introduzione dell'iscrizione puniforme sul sigillo cilindrico se vi ricordate nel quarto millennio avevamo diverse raffigurazioni che servivano nella loro variabilità a identificare i differenti funzionari nel periodo protodinastico con l'introduzione del nome del proprietario del segillo non è quindi più indispensabile variare così tanto le raffigurazioni ma è possibile identificare il funzionario stesso con il suo nome iscritto direttamente sulla superficie del cilindro in questo senso come vedete gli stili del periodo del protodinastico diventano molto più standardizzati abbiamo tre tipi di scene ricorrenti il nutrimento e la protezione delle greggi la lotta tra animali selvatici e domestici la lotta di figure semidivine l'eroe nudo l'uomo toro e il toro androcefalo contro gli animali e abbiamo una serie di sigilli molto standardizzati in stile lineare e disegnativo nella prima parte del periodo tra il protodinastico primo e secondo e nel protodinastico terzo uno stile piuttosto a rilievo decorativo vediamo adesso alcuni esempi di sigilli di questo periodo che come abbiamo detto sono molto standardizzati i motivi più ricorrenti sono le lotte tra uomo toro e tra belve ma anche tra l'uomo riccioluto e i capridi e i leoni e vedete benissimo come le figure si stagliano in questo caso su un unico registro e sono alternate creando un motivo figurativo continuo che permette di essere ripetuto all'infinito tante volte quante viene fatto rollare il sigillo cilindrico sulla superficie da sigillare di argilla e in alcuni casi come diciamo prima l'iscrizione cuniforme viene inserita all'interno del partito figurativo in molti casi sembra inserita proprio in un secondo momento tra le immagini altre scene ricorrenti sono le scene di banchetto che abbiamo visto rappresentate sugli standardi di vittoria ma anche sulle placchette a rilievo compaiono in maniera molto frequente sui sigilli del protodinastico e sono solitamente articolate in due o più registri sovrapposti dove vengono rappresentati i personaggi che libano li vedete seduti con in mano un bicchiere sia personaggi maschili sia femminili o anche dello stesso sesso personaggi maschili o coppie di personaggi femminili altre raffigurazioni tipiche di quest'epoca sono le immagini mitologiche qui vedete raffigurato in sigillo in alto il cosiddetto Dio Barca oppure personaggi che sono intenti a costruire probabilmente delle ziggurat delle strutture monumentali a carattere templare abbiamo anche sigilli di tipo geometrico schematico che sono documentati in un momento iniziale del periodo soprattutto tra la fase di Jammet Nasr che vi ricordo si è data intorno al 3100 2009 a.C. e nella fase iniziale del protodinastico primo tra i vari personaggi rappresentati nella grittica del protodinastico l'uomo riccioluto è quello più frequentemente attestato e dovrebbe rappresentare la figura di Gilgamesh che incarna il prototipo del guerriero ma anche del re bene se anche questa parte della lezione vi è chiara vi domando quali caratteristiche ha la glittica del protodinastico bene la lezione è terminata vi do alcuni spunti di riflessione e riepilogo degli argomenti trattati su quali presupposti si fonda il potere regale nel periodo protodinastico che caratteristiche avevano le città mesopotamiche durante il periodo protodinastico quali sono le caratteristiche delle strutture templari e ancora quali sono le caratteristiche delle cosiddette tombe reali quali sono le tipologie di statue e di stelle documentate nel periodo protodinastico infine che caratteristiche ha la glittica di questo periodo bene la lezione di oggi è terminata vi ringrazio per l'attenzione tutti i materiali li potete trovare sul sito di Uninet1 arrivederci